Ciao a tutti ragazzi, è l'ennesimo episodio di Fallout e sono al castello come vedete E allora, ultima roba, sono andato a cazzeggiare via Centauri, poi sono tornato qui e questa sarà la nuova base del gioco Ho mandato via per Stronger e vi ho preso Codsworth Perché voglio fare l'amicizia anche con lui E basta, cioè, guardate l'armatura, è un T60, T51, T45, è tutto Una roba che in confronto Iron Man vende manichini Comunque, piccolo rassunto Il nostro buon vecchio Preston Garvey ci ha detto Sta accadendo qualcosa al castello, vai a vedere Tu, io no, perché devo restare qua a cazzeggiare E ho scoperto che un veterano dei B-Nutman Ha detto, io so che qua c'è un'armeria, quindi andiamo a vedere l'armeria Ecco qua che ci sta aspettando da secoli Sfondiamolo Spero tu abbia un'idea Certo che ce l'ho Se non puoi passare attraverso, gira intorno Diamo un'occhiata al bastione settentrionale Ok, andiamo Comunque, allora, sì, non mi spoilerò nulla Ma, no, no, sto zitto, sto zitto Voglio farvi vedere a voi Come vedete, dov'è? Eccolo qua Ah, sì, il bastione È il bastione centrale qua, è distrutto Quindi devo reciclare 6 di cemento, cavolo, è tanto 6 di cemento, eh Ecco qua, galleria del castello Cosa può esserci trappole Ecco qua il simbolo dei Minutemen Che bello che è Attenzione, può esserci qualcosa Tipo, non lo so Ecco, ecco, ecco Io l'avevo saltata Un'altra Dai, sempre usare lo spav Sempre Un'altra Ah, ce n'è solo una Finite Sempre Usare Sì, li ho già tirare colgo dopo, ovviamente Se no Anzi, non li ho visto delle armi Come si chiama? A palla di canone, va bene Mi serve Per adesso Ho un'altra Finita frammentazione Ossia Se siamo riusciti a creare sta roba qua E riusciamo a fare tutto Oh, tecnica di benzina Cielo di fusione Moschetto laser Cosa ho sentito Non l'avevo vista sta qua Sento che sta sparando Ah, comunque il fucile al secchino Adesso è una carabina Por No, mi ha rotto Come mi ha rotto la gamba Ok, vabbè, facciamo fuori la Forte Ok, posso andare avanti anche così Fa nulla, fa nulla Mi sono dimenticato di fare la postazione per armatura atomica Sacco di cemento Sì, a scacciacani non è l'ideale Nucleo di fusione Ma io sto qua Ahà, laboratorio chimico Per Un po' troppe mine Dietro l'angolo, complimenti Camperissimi Cosa? Cosa? Cos'è? Eh, vi ho detto io Dove sono le mine? Dove sono le... Usate le mine Almeno Spero che facciano qualcosa Vedete quanto mi toglie? No, puntatele qua Fate in modo che vi segua No, perché non veniva qua? Ma si è buggato? Dai, dai Ma guardalo, guardalo Ma non viene qua Non viene Non viene Ma che ca... Cos'è che non passa? Quando è che si stufa? Non ho più mi... Non ho più mine E anche poca vita Prendiamole Dico per Oh, funziona No, 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 no No Non va per niente bene Dov'è l'acqua? Perfetto Sì, perfetto un cavolo Dov'è? No Quanto... Quanta vita ne ho tolto Alti Vabbè, vabbè Attenzione Ah, chiariamolo qui Spero che passi Faccio una schermaglia Dai Dai, che ora si suriscalda? Dai Oh, non si suriscalda mica Che cavolo Oh, avrà un punto debole Continua Sì Nucle di fusione Mi raccomando Adesso sei fottuto Critico Ora ditemi che non sono un genio No, no, no Sto per esplodere Guardate la vita Ho 1-2% di vita Io sono vivo Per miracolo Deve essere lei Per forza A metterla password Se no Vai Ecco Spero Spero che se la ricordi almeno No Se sbagli hai un fucile puntato alla testa Guarda Ha funzionato Ok Che salva Per poco E la madre Oddio Guardate Perché mi frutto ad osola Roberto Baratti Ho un vino Perché mi sparisce No Cosa colpesti il vino No, no Prima raccolgo il vino Dopo andiamo avanti Ah Generale Bottiglia Dio Amontillado 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 Sì Lo spagnolo Mi fa schifo Ah Il mostro Ah sì Il mostro marino Lo che cattuccio C'è il plasma C'è la diffusione Moschetto laser L'uniforme dei minuti Ma è però bella Dai E io sono io generale Vorrei sperargli per vedere cosa succede Beh a me A me sembra più che integro Per essere Mordo 40 anni fa Oh oh Qui 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 Cosa c'è Oh Non dimmi Ti prego Dimmi che è quello Dimmi che è quello Che spero che sia Dimmi Che è quello che Oh È quello che speravo fosse E sono contento Di qua invece c'è C'è l'armeria Porta Guardate quanta roba I progetti Progetto E fornimenti e artiglieria E fornimenti e artiglieria Ottimo È fantastico Sì cavolo È forte l'artiglieria Infatti Ci penso dopo Ok Ho fatto tutta l'artiglieria Qui e lì Comunque Ricordatevi che dovete anche Assegnare l'artiglieria Se no Vi rompe le palle Per sempre Sì ho fatto l'artiglieria Quello che mi serve Dove? Ok Ah devo accendere Dove è? Dove è? Dove cavolo? Ah eccolo qua Comunque Si sembra una roba figa Quella artiglieria Però ci mette mezz'ora Prima che ti arrivi Il segnale Quindi fa in tempo A morire Se ti serve Due sono le granate Eccolo qua Bene Dove è questo edificio Ok Melonaria Ora aspettiamo E vediamo come vanno I cosi Quando ci mettono Una risposta Abbiamo visto il pubo sul versaglio Io non lo vedo Non si sa mai Non si sa mai Artiglieria E' una bomba E' una bomba Stratiglieria Ah un colpo solo Ah no Due col Quelle sulle macchine Esplose Fa danni Sta roba Però Il problema E' che ci mette Mezz'ora Un terzo colpo Addirittura Basta Basta la voglio Cos' Parla con Preston Gervi Baffanculo Si cavolo Questa è utile Artiglieria Però Solo per estetica Non per altro Perché Ci mette un po' troppo tempo Che schifo di tempo Che c'è vero Ok E' bisogno E' finito E' durato Pochetto Ma l'ho fatto Ma non volevo farvi perdere Questa missione Che è stata interessante Anche un po' difficile Per vedere Robo Sentinella Comunque Ciao a tutti E ai prossimi episodi